Ciao ragazzi, buona giornata e buon'arte, sono Andrea Lucchetto della Galleria di Preganziolo. Volevo avvisarvi che anche quest'anno verrà organizzata la seconda edizione della FIERA dei Mini Quadro, grazie al successo ovviamente della prima edizione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni artista partecipante dovrà portare opere, una o due opere al massimo, di formato 30x40, non di più, e scusa cornici, come dico, anche agli altri artisti che sono qui presenti. Ospite straordinario è Vitero Sgarbi che il 17 di ottobre alle 18.30 presenterà la mostra. Ovviamente, viste le regole che ci sono imposte, verrà bloccata il traffico, spero, via Saragat, perché ovviamente ci sarà un sacco di persone. Cosa molto importante, il bando e la scheda di iscrizione, cioè scadono il 15 agosto, quindi mi chiamate a questo numero, sono in sovraimpressione, che è 347-922-5107, oppure scrivete a info-l-galleria.it, oppure a lucchetta76-gmail.com. Mi raccomando, perché senza il bando e senza la scheda di iscrizione non si può fare nulla. 15 agosto, seconda edizione della Fiera del Niquango, formato A3, ospite straordinario di Togos Sgarbi. Ok? Buon'arte! Vi ricordo il sito www.l-galleria.it. Ciao!